buongiorno a tutti sono alessio martinelli del team martinelli re ma stella polare oggi vi ho portato a valenzano e quello che vi mostreremo è un fantastico appartamento di ampia metratura di tre vani più accessori con poco auto andiamo a scoprirlo insieme ben ritrovati non ho saputo resistere mi leggo due passi voi godetevi la casa a dopo casa e dove si trova il cuore oggi siamo in un comodo appartamento dove la luce lo spazio non mancano assolutamente una soluzione che presenta un ampio soggiorno e adiacente una cucina ampia con sala da pranzo dal quale abbiamo un fantastico balcone su quale rilassarsi e prendere il sole percorrendo il corridoio non è da meno neanche la zona notte composta da bagno e da due camere da letto con misure invidiabili a completare la soluzione un utilissimo ripostiglio che in casa non deve mancare mai ma che bella casa avete visto questi ampi spazi questa luce che pervade l'immobile ovviamente c'è qualche ritocco da fare ma può essere veramente la casa dei sogni chiamatemi